ok, allora sono arrivata a tre punti dalla fine ne lavoro ancora uno e adesso con due punti sul ferro vado e faccio l'aumento quindi metto il punto sul ferro e lo lavoro sempre a diritto ritorto poi lavoro il prossimo a diritto e poi faccio il mio vivagno questo ferro per comodità lo chiamiamo di nuovo ricominciamo da capo perché questo foglio dove andiamo a segnare quanti ferri andiamo a fare per ogni cosa che facciamo ecco è partito il ferro ci serviranno dopo per rifare un'altra parte uguale quindi adesso tiriamo un'altra linea questa abbiamo fatto 26 ferra all'inizio per iniziare poi abbiamo fatto le due diminuzioni poi siamo andati avanti per 8 cm per taglia e quindi io sono arrivata qua adesso facciamo che chiamiamo sempre primo ferro quello dell'aumento quindi abbiamo fatto un aumento adesso andiamo a lavorare altri 16 ferri no scusate, questo è già il primo quindi in totale 16 ferri lavorati sul 17esimo ferro andiamo a fare un altro aumento uguale a questo quindi lavoriamo il secondo, il terzo, il quarto fino al sedicesimo compreso sul 17esimo che sarà chiaramente su un ferro a diritto facciamo un altro aumento una volta che siamo arrivati al 17esimo ferro andiamo avanti a scrivere 18, 19, 20, è quello che è per tot centimetri adesso vi dico i centimetri per taglia perché fino al 17esimo ferro lavoriamo tutti uguale quindi sul 17esimo ferro noi andiamo a fare tutti un aumento ok? il primo aumento l'abbiamo fatto adesso sul primo ferro il secondo aumento il secondo aumento lo andiamo a fare sul 17esimo ferro ok, allora scusatemi però mi stanno arrivando tutte le mail vostre quindi quando sentite il treno è qualcuno di voi che mi scrive ok, allora quindi abbiamo detto il primo aumento lo abbiamo fatto insieme il secondo aumento lo faremo sul 17esimo ferro dopodiché andiamo a continuare così la taglia 40 andrà avanti a lavorare per esattamente 31 centimetri dall'inizio del lavoro ok? quindi vediamo un po' se ho detto giusto però allora sì la taglia 40 andrà avanti per 31 centimetri totali quindi dall'inizio del lavoro la taglia 42 quindi chi la sta facendo uguale a me e quindi io andrò avanti a lavorarla per 33 centimetri quindi 2 centimetri di differenza e in automatico la taglia 44 andrà a lavorarla per 35 centimetri quindi fino ai 17 ferri li facciamo uguali tutti quanti perché sul 17esimo ferro dobbiamo fare l'aumento dopodiché andiamo avanti per i centimetri che abbiamo deciso della nostra taglia quindi taglia 40 andrà avanti per 31 centimetri dall'inizio la taglia 42 dall'inizio del lavoro andrà avanti per 33 centimetri e la 44 per 35 centimetri chiaramente è sempre a maglia rosata ok allora abbiamo fatto nell'ultimo lavoro che abbiamo fatto abbiamo iniziato con un aumento nel primo ferro sia all'inizio che alla fine poi abbiamo fatto 16 ferri in totale quindi calcolando anche il primo siamo andati a fare 16 ferri sul 17esimo ferro abbiamo fatto un altro aumento dopodiché abbiamo continuato per esattamente 31 centimetri per la taglia 40 33 centimetri per la 42 e 35 per la 44 quindi adesso una volta che abbiamo fatto questi centimetri per la taglia che abbiamo deciso di fare dobbiamo lavorare il prossimo ferro in questa maniera quindi andremo a scrivere 1 un'altra volta in modo che suddividiamo i lavori e ogni volta sappiamo cosa dobbiamo fare perché poi ripeto dobbiamo farne un altro uguale quindi sul primo ferro noi adesso andiamo a iniziare i raglan quindi dobbiamo andare a calare nel primo ferro inizieremo a fare questo allora andiamo a intrecciare le prime tre maglie quindi vado a lavorare il primo punto lavoro anche il secondo e inizio praticamente a chiudere un punto adesso vado a lavorare il prossimo e praticamente vado ancora a lavorare un punto e vado a chiudere il secondo punto che mi serve quindi lo accavallo su quello lavorato ne lavoro un altro e vado ad accavallare il prossimo e terzo e ultimo punto che dobbiamo chiudere ai lati adesso continuiamo tutto il ferro e lasciamo tre punti ci fermiamo tre punti dalla fine allora siamo arrivati agli ultimi tre punti in realtà però io li vado a lavorare lo stesso quindi lavoriamo tutto il ferro questa volta e solo per questa volta visto che dobbiamo intrecciare tre maglie andremo a farlo sul rovescio in modo che praticamente vado a farlo in questa maniera lavoro il primo punto lavoro il secondo punto e accavallo il primo punto sul punto appena lavorato adesso ed è il primo che abbiamo calato lavoriamo il secondo e andiamo a calare il secondo punto sempre accavallando un punto sull'altro adesso andiamo a praticamente intrecciare l'ultimo punto che ci serve perché dobbiamo intrecciarne tre quindi questo è il nostro terzo punto andiamo a prenderlo e lo accavalliamo sull'altro adesso lavoriamo tutto il ferro a rovescio dopodiché vi spiegherò come andare avanti ok allora abbiamo fatto il primo ferro e abbiamo intrecciato sul diritto abbiamo intrecciato subito i primi tre punti poi abbiamo lavorato tutto il ferro poi abbiamo lavorato tutto il ferro a diritto fino alla fine il secondo ferro l'abbiamo cominciato sempre intrecciando tre punti all'inizio del ferro ma a rovescio adesso dobbiamo fare così ogni due ferri quindi a partire già calcolando questi due che abbiamo fatto quindi abbiamo intrecciato qui poi abbiamo fatto il secondo ferro dove abbiamo anche intrecciato ma questo è un caso eccezionale si fa solo questa volta adesso andiamo praticamente ogni due ferri cosa vuol dire? abbiamo fatto il secondo sul terzo ferro andiamo a fare una diminuzione ancora allora per le diminuzioni dei raglan ci sono vari tipi di diminuzioni in questo caso per come sono state fatte le spiegazioni per come sono spiegate allora in questo caso vi farò fare questo tipo di diminuzione praticamente allora adesso sul terzo ferro quindi ogni ogni due ferri dobbiamo andare a fare una diminuzione da adesso in poi quindi adesso andiamo a farla sul terzo ferro poi faremo il quarto ferro a rovescio sul quinto andremo a fare un'altra diminuzione quindi la prima diminuzione non la calcoliamo più perché è una cosa a sé partiamo da questa quindi dal terzo ferro noi iniziamo a fare la prima diminuzione che andremo a ripetere per un dot di volte intanto andiamo a farlo allora iniziamo a diminuire così facciamo naturalmente il primo punto a rovescio dopodiché vado a lavorare vado a lavorare il primo punto normalmente a diritto dopodiché faccio ancora allora dunque scusate allora abbiamo detto lavoriamo anzi no non lavoriamo scusate questo punto andiamo lo passiamo a diritto senza lavorarlo quindi lo andiamo a passare a diritto dopodiché lavoriamo il prossimo e accavaliamo il punto non lavorato questo si fa dalla parte di destra adesso lavoriamo tutto il ferro a diritto però ci fermiamo a tre punti dalla fine quando ci siamo arrivati ai tre punti dalla fine vi faccio vedere come diminuire dalla parte opposta ok arrivati a tre punti dalla fine andiamo a lavorare in questa maniera praticamente andiamo scusate sto cercando di mettere un po' più a fuoco perché ecco mi sembrava un po' sfocato allora andiamo a lavorare due insieme a diritto dopodiché lavoriamo il nostro punto normalmente perfetto questo perché questo tipo di diminuzione fa sì che vi fa vedere precisamente dove avete fatto le diminuzioni in modo che poi quando andate a cucire anche la manica è più facile perché i punti sono segnati ok adesso allora abbiamo fatto sul terzo ferro mettiamo tra parentesi primo prima di di che è la prima diminuzione ok andiamo a fare il quarto ferro normalmente a rovescio siccome noi ogni due ferri dobbiamo andare a fare dobbiamo andare ogni due ferri a fare la diminuzione noi il quarto ferro lo facciamo normalmente quindi vuol dire che sul quinto ferro noi andiamo a fare un'altra diminuzione questo è ogni due ferri ok quindi quarto ferro facciamo il rovescio sul quinto andiamo a fare la diminuzione poi andremo a farla sul settimo sul nono sull'undicesimo quindi su tutti i ferri dispari ok perché dobbiamo farla ogni due ferri però quante volte allora in questo caso le diminuzioni cambiano per taglia quindi per la taglia 40 ogni due ferri quindi come spiegato al terzo ferro sul quinto ferro sul settimo ferro per esattamente 10 volte 10 diminuzioni per 10 volte ok volte ogni due ferri quindi una dimensione ai lati naturalmente quindi sia a destra che a sinistra come abbiamo fatto adesso qui abbiamo passato un punto abbiamo lavorato quello successivo e poi abbiamo cavallato il punto passato alla fine a tre punti dalla fine abbiamo lavorato invece due punti insieme a diritto e poi abbiamo fatto il bivagno quindi le dimensioni saranno sempre fatte in questa maniera per il raglan quindi per la taglia 40 10 volte quindi da qua che è il primo andrete a contare 10 a 10 vi fermate chiaramente non fate più dimozioni per la taglia 42 quindi chi la sta facendo uguale alla mia andrà a farlo per 12 volte 12 diminuzioni per ogni due ferri ok quindi ogni due ferri facciamo per un totale di 12 diminuzioni 12 volte per la taglia 44 andremo a ogni due ferri andremo a diminuire 14 volte scusate 14 volte per appunto ogni due ferri quindi ogni due ferri 3 5 7 9 fino ad arrivare a 10 per la 42 scusate 10 per la taglia 40 12 per la taglia 42 14 volte per la taglia 44 perché chiaramente essendo una taglia più grande ha bisogno di più ferri e più diminuzioni perfetto una volta che avete fatto queste 10 12 o 14 volte di diminuzioni andate a lavorare per taglia 40 dall'inizio dei raglan quindi da quando abbiamo intrecciato i tre punti e si vede da qua quindi dopo aver fatto queste 10 diminuzioni iniziate a misurare il lavoro perché dovete lavorare esattamente dall'inizio dei raglan questa volta quindi non dall'inizio del lavoro ma dall'inizio dei raglan per 8 centimetri ok invece per la taglia 42 andremo a lavorare per 10 centimetri quindi raglan avranno questa altezza e per la taglia 42 invece per 12 centimetri dall'inizio dei raglan quindi andiamo a fare queste 10 12 o 14 volte di diminuzioni ogni 19 21 quando arriviamo a 21 per la taglia 40 vi fermate con le diminuzioni ma andate avanti comunque per un totale di 8 centimetri dai raglan invece per la taglia 42 quando arriviamo a 21 dobbiamo ancora aggiungere due volte quindi 21 andiamo a 23 e poi a 25 sul venticinquesimo ferro facciamo l'ultima diminuzione mentre per la taglia 44 sul 27 29 ferro farete l'ultima diminuzione e continuate chiaramente per 12 centimetri totale di altezza dai raglan dall'inizio dei raglan noi che facciamo la taglia 42 andremo avanti per 10 centimetri dall'inizio dei raglan e poi ci fermiamo perché dobbiamo andare a fare un'altra cosa un'altra Grazie.